Iepa ragazzi, bentornati su GiovinHDSpo Benvenuti in un nuovo video Sto ridendo per la faccia di chi è RMI, credo Benvenuti su PES15 Un video semplice semplice Una partita in MyClub, nella modalità MyClub Per chi non lo sapesse, la modalità MyClub è simile ad Ultima dei Team Però ci sono delle differenze L'acquisto dei giocatori su MyClub va un po' a caso Dipende da come gira in sostanza Poi se volete che vi spieghi come funziona questa modalità Se volete vedere una serie su questa modalità Vi invito a lasciare un mi piace a questo video E a commentare dicendomi Fai una serie su MyClub e io vi accontenterò Comunque, io ho acquistato la versione per PlayStation Dal PlayStation Store Con Goze in MyClub E la possibilità di avere un giocatore UEFA Dello squadra UEFA E ho già riscattato Goze Ho già riscattato il giocatore UEFA Ora vi faccio vedere un po' la cosa Cosa ho trovato nel giocatore UEFA Gestione squadra Ed eccolo qui Manuel Neuer Se mi si apre Dettagli giocatore Su PES ha 93 Valore generale il giocatore dovrebbe essere Sono un po' Nabbo In questo gioco Quindi non vi aspettate granché Sportiere offensivo Bayern Munchen Munchen E in attacco Qua abbiamo Goze Siccome non posso cambiare modulo Perché ogni allenatore qui ha il suo modulo Mi devo accontentare con questo 4-2-2-2 E dunque Andiamo, continuiamo dritti Facciamo una partita online Vediamo se posso vincere Divisione 12 Si parte dalla divisione 12 La sim Questa Dovrebbe essere questa Si 3 punti E Matchmaking senza limitazioni Utenti Pare Livello Si Divisioni Solo la stessa divisione Passaggi assistiti Non sarei abbinato ad avversari con impostazioni Passaggi assistiti Molto diverse dalle tue Se hai difficoltà a trovare la versione Consigliamo di Limitazioni Di matchmaking Prima di riprovare Senza limitazioni In questi passaggi assistiti Utenti pari Senza limitazioni Senza limitazioni Si Vai a matchmaking Ci sono Ci sono belle canzoni Su Su PES Mi arrivano i messaggi Belle canzoni Su PES Cioè Livello Valutazione Cortesia Che cazzo è sta cosa? Livello di forza La squadra Livello 1 Livello 1 Beh La A A A A A Divisioni 12 12 Verifiche Stato di connessione E Boh Non capisco un cazzo Comunque Mi volevo chiedere Chi di voi Ha giocato A PES Chi di voi Sa giocare A PES Io ho fatto 2-3 partite Ho notato i long shot Sono Pazzo Sono strani Sono strani Poi c'è Il La guida Quando per esempio Battete I calci d'angolo E Poi Anche quando si Battono i calci di punizione La velocità È molto Regolata La resistenza È Arrivati a fine Al fine Secondo tempo Allora Verso fine partita Si vede che sono Veramente stanchissime Anche prima Già nella seconda metà Del secondo tempo Sono stanchissimi Comunque credo di aver trovato L'avversario Musalla Tassi Giovi Spò E dunque Beh Ora Bando alle ciance Cianciopo andiamo Andiamo direttamente Al calcio D'inizio E si inizia Si inizia Partita Interessante Abbiamo Fabio Caressa E Luca Marchigiani Mi ero scordato E dunque Big Int Contro Fenerbas Fenerbas Daie Daie Prima partita online Per me Su PES 15 Spero di non fare Così schifo Dunque Andiamo Andiamo Calcio d'angolo Pericoloso Questo calcio d'angolo E daie Cazzo E muovete A tantora Batte da solo Il calcio d'angolo Crosso la testa Per cercare con uno di testa C'è Neuer Non parla un cazzo Neuer Non ha parato un cazzo Però Neuer E' buono Lo stesso Neuer In aria Il tiro Che merdata Che merdata E non fatte le cacate Andate a marcare Mamma mia Seria Ladri Mamma mia Mi sto confondendo di brutto Con i bottoni di FIFA Vai Bellissimi questi passaggi In mezzo Per Gaetan E dai Ma perché a quello Io a quell'altro Lo dovevo dare A quell'altro Vai Questo lancio Bello Lo stop Vai Uno Bravo Bravo Questo passaggio Corri Vai Vai Passa lì Sì No Perché Tira 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 Ma perché Tiri centrale O tiri fuori O tiri centrale Ma vaffanculo proprio Vai Vai Tira 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 C'è C'è il gol E' il gollasso E' il gollasso E' il gollasso Di chi cazzo Non si sa Bene così Grazzo Il primo tempo termina Mi trovo un po' in difficoltà Non mi trovo con i tasti Perché sono diversi Va bene Comunque Un gol L'abbiamo fatto Iniziamo il secondo tempo No Perché Lei è passata a quel Vai Esci Neuer Esci No E' fuori gioco E' fuori gioco Cazzo Ma che Come cazzo Ma che cazzo Ma dove è meritato Dove Ma che cazzo Era fuori gioco Come cazzo Si va a trovare Quello lì Da solo In area Con due Coglioni In mezzo Ma come cazzo È Dai Ma dai Ma poi Perché il portiere Fa così schifo Sembrano portieri Peggio di FIFA Peggio Peggio Tira 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 Sì Che gol Che gol Questi sono Perché io non posso Rivedere il replay Il mio avversario Si è stato a rivedere Il replay Io non li ho visti proprio Mamma mia Che fallo Neanche lo fischia Neanche lo fischia Qua c'è la ripartenza nostra Con il contropiede Che non esce No No Contropiedi No Muori Mamma mia Che fallo No Prendilo Oh che cazzo fai Prendilo Esci Esci Bravo 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 Proviamolo Un long shot Magari potessi tirare Allora lo farei un long shot Proviamolo da qui No eh Non si può provare il long shot Proviamolo da qui Proviamo il long shot Bella cacata Bella cacata Sono passati due minuti E ancora continua il tempo Incredibile Devi fischiare Fischia Si fischia Pia partita online Vinta 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 Viene E' stata vinta Vediamo Noia 5 e 5 Ma che schifo E gozze Gozze 6 Beh Diciamo Andata in maniera discreta Maniera discreta E dunque ragazzi L'episodio termina qui Vi invito Se volete Vedere altri Gameplay Di PES Vi invito A mettere Mi piace A questo video Ad iscrivervi Iscrivervi Al canale E A commentare Dicendomi Continua Con PES Se non volete Vedere PES Se lo volete Se lo volete Vedere E dunque ragazzi Qui è Giovispo Vi saluta E Alla prossima Alla prossima